Palla Canestro Varese e Betalan Capodorlando, le due squadre del mese, reducite a quattro vittorie consecutive, si affronteranno domani alle 17.30 al Paladuea di Masnago in diretta su Antenna del Mediterraneo. Per una delle due la serie positiva si fermerà a quattro, per l'altra diventeranno cinque di fila. Coach Di Carlo non pensa ai record, ma solo a raggiungere prima possibile il traguardo della certezza matematica della partecipazione ai play-off. Il buon momento di Varese ha consentito alla squadra di Coach Caia di allontanarsi dal fondo della classifica, mentre l'obiettivo della Betalan è di vincere per rimanere tra le prime quattro. Se noi vogliamo continuare a crescere bisogna andare a Varese a vincere. E dunque è delicato perché secondo me questo rappresenta un imbuto attraverso il quale bisogna passare. se vogliamo realmente diventare, passatemi il termine, tra virgolette grandi. E dunque, tra l'altro, credo che sia una formazione realmente molto competitiva. E lo dicono tra l'altro i numeri. E' una formazione che nel giornale di ritorno, nelle prime otto gare, ne ha vinte cinque. Una meno di noi. Dunque sta facendo un cammino di tutto rispetto, di tutto rilievo. Anzi, violare Masnago oggi per noi è tanta roba. Noi che oggi, siccome noi arriviamo da quattro vittorie, a Varese andiamo in pellegrinaggio con lo stendardo del comune di Capodorla. Non è così. Siamo professionisti, ma al di là del fatto di essere professionisti, non staremmo qui a fare quello che stiamo facendo. Dunque, il desiderio più grosso oggi è quello di andare a vincere a Varese.